Una assemblea chiavi in mano. Progetto, realizzazione, gestione, follow-up. Questa è la richiesta avanzata da Anci Giovani a Trivio Quadrivio in occasione della Convention 2004 dei giovani calzaturieri italiani. Il desiderio di Cleto Sagripanti, il vulcanico presidente dell'Associazione, è quello di coinvolgere i coetanei in un evento incisivo per contenuti e memorabile per partecipazione, aperto a discipline diverse da quelle tradizionalmente frequentate in simili occasioni. Ad animare l'assemblea sono stati quindi chiamati il presidente dei giovani industriali italiani, Anna Maria Artoni, l'indimenticato campione del mondo 1982, Marco Tardelli, il giornalista sportivo Italo Cucci e l'imprenditore calzaturiero Maurizio Pizzati. Leonardo Previ, presidente di Trivio Quadrivio, ha moderato il dialogo tra i protagonisti per garantire l'opportuna trascrizione dei contenuti extraimprenditoriali a favore del dialogo e del pubblico presente.